Fino al 26 agosto alle ore 14 è possibile inviare online la domanda per il servizio civile. Per il 2024-2025 sono disponibili 18 posti su tre progetti di utilità pubblica con un incremento di 6 unità rispetto all'anno scorso. Tuttavia l'associazione Ares Fabiola di Santa Caterina non ha ottenuto il punteggio necessario per approvare i progetti mettendo a rischio il servizio sociale e formativo. L'amministrazione comunale ha quindi richiesto un servizio civile universale autofinanziato e la proposta è stata accettata permettendo l'attivazione di tre posti con scadenza a bando il 26 settembre 2024.